Buongiorno mondo, mi sto mangiando i cappelli! Benvenuti sul mio canale, io sono Catarina e oggi andremo a fare la reaction di video che dicono essere soddisfacenti. Lo sono veramente, non lo so, non li ho ancora visti, me li sono fatte inviare apposta così avrò una reazione spontanea sul momento insieme a voi. Spero vivamente che siano veramente soddisfacenti perché se no potrei arrabbiarmi. Ci arrabbiamo insieme, ok? Prima di iniziare il video però ricordati di iscriverti al canale e lasciare tanti bei mi piaccioni, tanti no, puoi metterne solo uno, ok? Lasciare un bel mi piace e niente, possiamo iniziare il video. Iniziamo! Iniziamo! Non trovo le Airpods e questa è la situazione, ma mi spiegate come succedono queste cose? Cioè, quando? Ok, ci siamo, possiamo iniziare con il nostro primo video. Nooo, già inizia male, io odio le S-I-A-S-M-R perché mangiano. A volte le faccio anch'io, però sì, le faccio è diverso quando le sento proprio da gente che mangia. No, 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 mi dà fastidissimo, ve lo giuro. Questo non mi soddisfa per niente. Mamma mia. No, basta, non mi piace. No. Ok, siamo partiti ufficialmente malissimo, può solo migliorare, giusto? Andiamo col secondo video. Bello! Ho capito, questo dobbiamo guardarlo in silenzio, perché è bello il suono. Siete pronti? Ok, guardiamo. Bello, bello, questo bello. Questo è un ASMR, ASMR che mi piace. E quando mangiano che non va bene? Voto 10. Bellissimo. Ok, quindi... Ah, stacca la cera, cos'è? E la butta dentro. Ok. Beh, no. No, che fastidio. Mette le cose blu, prevalentemente blu, però con del rosa dentro il blu, no. Questo mi dà fastidio, non è mica soddisfacente questa roba qua. Cioè, non vi urta il fatto che ci sia uno dei pezzi di altri colori all'interno e li buttano. No, 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 no. Cioè, guardalo, guarda lì. No. Non mi soddisfa per niente. Sono un po' pazza in queste cose, quindi il fatto che ci sia col giallo nel rosso e lo butta comunque in tutto nel rosa mi urta. Cioè, piuttosto buttalo d'asta. Non ricicliamo. No, ma chi è che effetta una ciambella? No. Bocciato? No, ma poi rimane col pezzetto. No. Primo, che cavolo affetta una ciambella? Secondo, te l'ha fetta per metà, poi rimane col... Abbiamo sbagliato? Non è più video soddisfacenti, ma provano di incazzarti. Che fa? Spacca le custodie? No. Ah. Bello. Oddio, tantissimi. Bello. Ok, questo sì. Pensavo le spaccasse, però bello. Tipo schiena, quando ti scrocchi la schiena, stesso suono. Sì, sì, sì. Vediamo un pochettino. Cos'è? No. Ma con che precisione me lo stai dicendo? Oh, un cuoricino. Ma è perfetto. Ma come l'ha fatto? Ma insegnami a vivere. Bellissimo. Non ho mai visto un'anguria così per... Wow. Cioè, no. Wow. Wow. Ok, vediamo, vediamo, vediamo un mais. Ah, questo, mi sa, è finto. Cioè, tipo... Cioè, davvero. Ci siamo capiti. No. Entrano perfette. Oh, yes. Bello. Addirittura. Questo quel che era? Ma che bello. No. 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 Che delusione. Era tutto perfetto. Tutto wow. Riuscivo solo a dire wow. Ero estasiata. E poi hanno lasciato quel cubettino. meno 20, meno 30, meno 1000. All'inferno deve andare questo video, non ci posso credere. Perché poi tu arrivi, sei al 99% della felicità e... Zero. Così da nulla. Non me l'aspettavo, mi giuro. Sono rimasta la missa. Vediamo. Questo fa un... Pollo al bacon ranch. Solisci un po'. E dai, eh. Quello cos'è? Il pollo? Ma che pollo è? Il pane. Ok. Sei lento, amico. Te lo dico. Mamma mia, ma che schifo. Ma che si mangia quella roba lì? Ma cos'è? Basta. Ma è lentissimo. Adesso basta di 25 secondi. Non è ancora successo niente di soddisfacente. Né di niente in generale. Passiamo al prossimo Ok, vediamo, vediamo No, eh Sul tappeto Mia mamma mi avrebbe ammazzato A quest'ora non sarei qui a fare il video, non ci credo Guarda lì No Pulisce tutto? Fantastico Ma no, ma quella roba lì è strepitosa Questa roba qua dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO Spaziale Siamo al nostro penultimo video Soddisfacente Speriamo Uh Bello, pulisce tutto lo sporco E dai, no, non si stacca Bello, ok Ah No No, no, no Ha rovinato tutto il fatto che è rimasto quel pezzettino finale Non ci posso credere Ma perché ci deludono così alla fine dei video? Uno si aspetta di provare delle emozioni Vere, belle, felici Gratificanti Invece no Ma perché? Ma non pubblicarlo Rifallo di nuovo finché non ti esce perfetto Perché questo non era perfetto Quel pezzettino di filo finale Siamo all'ultimo video Siamo all'ultimo video Spero vivamente che finiamo in bellezza Perché ce lo meritiamo Dopo queste sofferenze Noi ci meritiamo un finale felice Quindi pronti o no? Io inizio Uh, che bel suono Bello Ma non poteva farlo tutto in una volta Schaff Andiamo? Ti prego, fallo bene Fallo bene L'ha fatto bene Bellissimo Ah Stupendo Il giorno era quello degli hamburger Che cavolo stava facendo Perché mi hanno messo dentro questa roba qua Che mi hanno messo gli staccetti per niente Beh, bene Io spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate mi piace Se non è così lasciatelo Lo stesso Tanto non vi costa niente E rendete felice E voi volete vedermi felice È vero Probabilmente no Però alcune persone nella mia vita Vorrebbero vedermi felice Quindi se voi lasciate un mi piace Io sono felice E le persone intorno a me sono felici Funziona così la vita Sto divagando Era una semplice chiusura Che si è un po' prolungata In poche parole Dovete seguirmi Mettere mi piace Commentare con altri video Che dovrei fare Su queste cose Se volete una parte due Se non la volete Se volete il contrario Dove tipo Proviamo a non incazzarci Quando ci sono cose Che non finiscono Nel modo corretto E niente Io vi mando Un super bacione E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao